ormai non c'è più ritegno che succede? che succede? guarda qua Frascati ormai l'amministrazione l'amministrazione di una città si riduce a questo e a queste cose ma che c'entra questa cosa qua? ma che c'entra? tu dici non sei sapere che era Frascati tu lo sapevi non l'altro no che ne sai ma forse avrebbero dovuto mettere su al comune non lo so orchè miseria